Qua stiamo programmando per esempio un intervento di chirurgia avanzata. I pazienti che curiamo al nostro policlinico non sono dei pazienti semplici, anzi la norma sono pazienti a cui mancano molti denti, pazienti a cui manca anche l'osso e sono dei pazienti che devono ricostruire l'osso. Su tutti i pazienti che giungono al policlinico noi eseguiamo un attacca tridimensionale e ci consente di vedere con esatezza quello che è lo stato attuale della bocca del paziente, delle ossa e soprattutto di quello che si potrebbe fare per rimettere la masticazione. Utilizziamo anche sicuramente la radiografia panoramica, però la radiografia panoramica da sola non è sufficiente a farci fare una diagnosi corretta, cosa che invece con l'attacca in 3D noi riusciamo a fare. L'attacca 3D è una ricostruzione tridimensionale che al computer ci permette di misurare esattamente gli spessori dell'osso, la densità e avere tante altre informazioni che ci permettono di fare un intervento più sicuro.